Ben ritrovati a tutti su Meteo Giuliaci da Andrea Raggini. Il prossimo fine settimana vedrà l'alta pressione protagonista su tutta la nostra penisola. Giornate molto calde in arrivo da nord a sud. Sia nella giornata di sabato 18 che domenica 19 il sole splenderà su quasi tutte le regioni della nostra penisola. Sabato avremo solamente nelle ore centrali della giornata qualche rovescio temporale tra Calabria centro meridionale nelle zone interne e sulla Sicilia centro orientale. Nella giornata di domenica avremo invece instabilità che aumenterà sulle Alpi occidentali tra Valle d'Aosta, Piemonte, qualcosina sull'Appennino settentrionale tra Emilia e Toscana e ancora qualche debole rovescio nelle zone interne tra Calabria e Sicilia orientale. Altrove sole splendente temperature bollenti, valori massimi spesso compresi tra 29 e 34 gradi ma con valori ben più alti nelle zone interne della Sardegna e sulla pianura padana centro occidentale. Quindi parliamo di Piemonte, Lombardia ed Emilia qui picchi fino a 36-37 gradi da non escludere. Maggiori dettagli li trovate su meteogiugliacci.it da Andrea Raggini. Buon weekend!